Disposti a tutto, anche all'omicidio, pur di mantenere il controllo del territorio e di poter avere il monopolio nella gestione della security, i cosiddetti buttafuori, presso una serie di locali della movita battipagliese e dei centri limitrofi. E' questo il quadro emerso da un'inchiesta della procura di Salerno, che ha coinvolto anche quella nocerina, e molti reparti dei carabinieri, che ha puntato l'attenzione su due gruppi operanti nel settore, in contrasto tra loro anche con metodi mafiosi e l'utilizzo di armi. Cinque gli arrestati, tre i domiciliari e due in carcere, tutti appartenenti allo stesso gruppo, operante nella Piana del Sele, i cosiddetti Black Angels, con l'accusa più grave di concorrenza illecita in commercio, continuata ed aggravata, con atti intimidatori oltre che lesioni. Tra gli arrestati anche un agente della polizia penitenziaria in servizio verso il carcere di Secondigliano, seppur con accuse minori. Altri quattro gli indagati, anche tra i titolari di alcuni locali che non hanno collaborato con le forze dell'ordine. Indagini che hanno consentito, anche con intercettazioni telefoniche, di scoprire che uno dei due gruppi aveva pianificato l'eliminazione fisica del capo dei rivali, sia per poter conquistare l'intero territorio, che per lavare l'onta dell'invasione in una zona, la Piana del Sele, ritenuta di esclusiva propria competenza. Due i presunti killer per l'omicidio che si sarebbero tirati all'ultimo momento indietro. Il secondo, perché due sono stati soggetti incaricati, il secondo di fronte all'obiettivo si è tirato indietro. E' anche un agente della penitenziaria che, per quello che abbiamo appurato sulla base di attività intercettive, condivideva le attività, possene essere dal gruppo, e quindi era pienamente organico a questo gruppo che abbiamo individuato. L'operazione nasce da un importante coordinamento e sinergia con la procura ordinaria di Nocera Inferiore, impegnata in un'attività di ricostruzione di un gruppo dedito alla distribuzione di anabolizzanti nelle palestre. Dopodiché gli atti sono transitati a noi nel momento in cui è venuto fuori invece questo altro tipo di condotta per la quale oggi abbiamo ottenuto i titoli cautelari. Sullo sfondo un clima di omertà e di intimidazioni. E' emerso dalle sommarie informazioni che abbiamo acquisito proprio dai danneggiati, dalle vittime di questa condotta criminosa, che hanno negato di aver subito queste minacce e queste intimidazioni da parte di questo gruppo agguerrito. Questo chiaramente non ha facilitato le indagini, ma abbiamo comunque ottenuto il nostro risultato costruendo una serie di elementi in via collaterale attraverso sia attività intercettiva che altre attività dichiarative di altre persone. E di questo, come dicevo, risponderanno davanti alla legge di la loro mancata collaborazione con la Polizia Giudiziaria e con l'autorità giudiziaria. Questo è un elemento molto indicativo e significativo anche del potere di intimidazione che queste persone riuscivano ad imporre e a manifestare nei confronti di esercenti attività commerciali che erano costrette poi a affidarsi ai loro servizi.